Con un giro di prova su un'auto elettrica, il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e l'amministratore delegato di Enel Fulvio Conti hanno suggellato tre nuovi accordi. I primi due incentrati su nuovi investimenti nel settore geotermico, il terzo sull'innalzamento della diga di Levane in provincia di Arezzo. Per quanto riguarda la geotermia, Regione ed Enel puntano a far nascere nuovi insediamenti produttivi nelle aree di Larderello e del Monte Amiata, ad alimentare attraverso gli impianti geotermici come quelli di Bagnole 3 e 4 che proprio sull'Amiata hanno richiesto un investimento di 120 milioni di euro. Bisogna attrezzare delle aree per convincere degli imprenditori, degli industriali, come già in effetti in parte è avvenuto, a utilizzare convenientemente questo calore che si genera attraverso i nostri sistemi di produzione e che possono offrire un vantaggio economico significativo perché rispetto all'utilizzo di gas per produrre l'equivalente di calore si ha un risparmio che è superiore al 60%. Attualmente in Toscana i comuni teleriscaldati sono 5 a cui si aggiungono 250.000 m2 di serre, caseifici e salumifici alimentati dal calore geotermico. Entro 45 giorni, ovviamente di intesa anche con i comuni e con le province, cercheremo di cadenzare con impegni precisi tutto ciò. Il secondo accordo prevede di sviluppare un polo per la ricerca scientifica, l'innovazione e l'alta formazione del settore geotermico partendo dal laboratorio Enel già in funzione all'arderello. Il terzo riguarda invece un intervento da 20 milioni di euro per l'adeguamento della diga di Levane e la messa in sicurezza di Laterina in provincia di Arezzo. L'En ha dato la disponibilità a lavorare di concerto con noi e questo mi pare un terzo punto decisivo.